La Lombardia ce la fa da sola perché abbiamo un bilancio straordinariamente forte, l'abbiamo costruito nel corso di questi anni e anche in questo momento di tagli feroci dello Stato sul capitolo della sanità, la Lombardia lancia questo nuovo progetto straordinario, un polo pubblico d'eccellenza che metterà insieme l'assistenza, la cura, la ricerca, la didattica, la sanità, unendo due istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, cioè il BEST e i tumori. Questa sarà una vera cittadella abitabile dove i malati saranno accolti e dove si potrà guardare al futuro attraverso delle strutture assolutamente avanzate, torno a dire che la regione Lombardia fa un investimento di oltre 400 milioni di euro che avranno ricadute positive anche sull'economia, ma che permetteranno di curare i nostri malati, già oltre il 50% vengono da fuori Lombardia, al meglio anche con strutture di alloggio, di ospitalità per i parenti dei malati. Il modello che abbiamo costruito in questi anni in Lombardia è di una sanità pubblica e di una sanità privata a servizio del pubblico, perché le eccellenze che si sfidano, spingono ciascuno a migliorare se stesso. È in questo modo che abbiamo fatto della Lombardia il sistema sanitario che ci invidiano in tanti e che tantissimi cittadini delle altre regioni vengono ad utilizzare.